Presentato a Matera presso la libreria De Sassi Bookstore, il libro Dentro Matera, Intiu Matera, dell'architetto Armando Sichenze, edito per i tipi di Giannatelli. 71 flash sul fenomeno dell'abitare odierno, concepiti dall'autore come possibili narrazioni. Un spaccato di Matera senza il tramite degli eventi folcloristici, oleografici, senza personaggi famosi, ma per il tramite di chi? Ma innanzitutto perché ci sono delle persone straordinarie, di solito questa è una città che ha avuto anche molta umiltà nella cultura, per cui queste persone non sono portate a mettersi in vetrina o a esporsi. E quindi c'è questo segreto, questo segreto formidabile che fino ad ora aveva bisogno, diciamo così, della pazienza, di una raccolta e di un dialogo frequente con tutte queste persone, che è quello che io credo di aver fatto con questo libro. Ed è venuta fuori appunto quell'umanità, quel rapporto tra l'umanità e la vita, che interessa moltissimo a chiunque venga a Matera, non un attimo solo scappi e fuggi, ma per capire di più. Buona sostanza, lei è entrato nelle storie, nelle case di molti personaggi di Matera che hanno in qualche modo un ruolo più o meno importante nella comunità per far emergere forse un'altra faccia che in altri casi non è mai fuoriuscita. Sì, io penso di sì, che effettivamente c'era un buco che bisognava cercare di colmare in maniera però originale, e anche con umiltà perché quando si entra nella casa degli altri e nell'abitare, che è ancora una cosa più complessa perché a volte noi viviamo in più punti della città, diciamo in più case, a volte sono case, a volte sono luoghi dove incontriamo, a volte è dove noi lavoriamo e quindi diciamo in ognuno di questi posti avviene qualche cosa di interessante che bisogna sapere osservare, ma in punta di piedi perché si entra nella vita degli altri. Io credo che questa sia stata la mia preoccupazione sempre, cercare di avere un dialogo ma nello stesso tempo non andare oltre certi limiti, questo è stato l'obiettivo, anche perché non c'è bisogno di a volte di approfondire di più le cose sono così naturali e questa è stata la scoperta, che ci sono dei momenti e ci sono dei particolari nei luoghi di abitare, ci sono delle rappresentazioni che sono venute attraverso delle foto istantanee, quindi con un cellulare a volte, altre magari sono anche più ferme come immagini, però appunto in questi particolari si nasconde l'anima e si nasconde però in un modo che forse è utile tirare fuori senza esagerare. E' partito, visto che è un architetto, più dai luoghi, dalle case o dalle storie delle persone per raccontare questa storia? Sì, un po' diciamo sono partito dalle case perché come architetto appunto le ho avuto modo di conoscerle per curiosità, per ricerca, per interesse e sono case che stanno in situazioni molto particolari, sono in punti in cui in una casa uno vede entrare il grande, cioè il grande entra nel piccolo, cosa incredibile, cioè cos'è il grande però qui a Matera? È il paesaggio, è la città stessa che in qualche modo entra, ma è anche la vita, la vita, l'umanità, le cose per cui diciamo di solito si viene a Matera sono soprattutto gli aspetti fisici, però poi ci stanno degli aspetti invece appunto di biodiversità, è una biodiversità interessantissima perché ovunque l'abitare cambia e noi cambiamo, in grandi città normali diciamo così cambiamo in un certo modo, ma come noi cambiamo qui a Matera dove ci sono 9 mila anni di storia che ti avvolgono, è una cosa che incuriosisce molto perché è una cosa che io sono liberissimo di fare tutto quello che voglio e non mi interessa quello che ci sta fuori, una cosa come a Matera io invece sono molto consapevole di dove sto, di quali sono le storie delle mie famiglie, c'è un rapporto col tempo soprattutto che è l'aspetto diciamo che poi giustifica una raccolta di inizi di racconti come sono questi, questo in fondo è un po' un racconto a pezzettini, e il racconto di che parla? Parla di come per esempio le persone combattono, conquistano i tempi della propria vita, sono tempi diversi, sono i tempi della vita quotidiana, della giornata, ma sono anche il tempo del figlio, dei figli ed è un racconto che in qualche modo collega lo spazio e il tempo. Come ha detto lei, da Matera, a Matera bisogna approcciarsi con l'intenzione di chi vuole imparare da questa città, non per forza insegnare qualcosa alla città? Sì, io almeno quando sono arrivato, sono arrivato da professore, sono arrivato da molti anni in Basilicata dal 1989, a Matera del 2007, però diciamo ci sono arrivato perché dovevo insegnare e ho capito subito che però l'unica cosa sbagliata era proprio cercare di usare Matera come una tribuna, oppure cercare di dire qualche cosa, di voler insegnare a questo fenomeno che si relaziona con 9 mila anni di storia. Ma come si fa? Come posso pensare che la mia cultura della modernità in crisi, tutta la mia formazione possa insegnare qualche cosa a un posto dove le persone vivono in questa situazione straordinaria? Almeno questo poi alla fine continua a crederci moltissimo. Io credo che le persone che vengono qui, le più interessanti, sono anche i personaggi che noi stessi abbiamo invitato. Non è che adesso sto dicendo sia chiaro che Matera sarà frequentata sempre di più da persone che vorranno venire qui a parlare. È molto bene, è molto interessante, però i personaggi più interessanti sono quelli che si approcciano con umiltà e cioè cercano di dire io vengo qui perché sono incuriosito e voglio apprendere da una realtà in cui c'è un fenomeno straordinario che è il vero motivo per cui Matera è capitale della cultura, non un altro. Le storie arrivano soltanto dal centro storico o ci sono anche storie di periferia urbana? Questa cosa delle storie che vengono dal centro storico è carina. Per esempio c'è una storia, c'è un centro storico di Matera che è un centro storico della natura. Io dico che la Gravina è un centro storico di molti migliaia di anni, è un centro storico della natura. Nella Gravina ci finiva tutto, ci finiva ogni ben di Dio, l'acqua, la vegetazione, gli animali. Quindi c'è una concentrazione nascosta in questo canyon in cui c'era tutto ciò che poteva servire per stare meglio possibile. Ancora oggi c'è un DNA in questa città. Il DNA cammina lungo la Gravina, la città si sviluppa in lunghezza. Alcuni dicono che questo è un difetto, io dico che questa è la storia. Quindi le storie varie che ci sono, che io ho incontrato, molte sono storie che hanno rapporti anche con la natura e con la Gravina che sono lontane dal centro storico, adesso a Casa Nuovo, oltre Casa Nuovo oppure dalla parte opposta. Quindi ci sono ancora dei casi in cui questo rapporto con il centro storico della natura, che non è quello nostro, è forte. Ci sono storie di questo tipo, ma ci sono anche storie invece di persone che vengono da fuori. Sono molti quelli che abitano, come me anche, che sono venuti perché hanno scelto di voler abitare in questa città. E quando si fa questa scelta è chiaro che c'è qualche cosa in più. Non è tutto naturale, è tutto oggetto di qualche cosa che è stato preferito. Il libro Dentro Matera viene elaborato parallelamente a 12 workshop internazionali svolti nel 2014 secondo il programma del Nature City Lab Fare strada a Matera nella rigenerazione urbana a sostegno della candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019. Come sono collegate queste due cose? Sono collegate perché ovviamente la rigenerazione urbana si occupa del futuro della città, di come possiamo sostenere questo ruolo di Capitale della Cultura. Perché in questo momento in tanti ci guardano, in tanti sperano, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, proprio a Natale, sono andata a Palermo e persino l'amministrazione, il sindaco Orlando, spera che attraverso il nostro successo possa esserci un successo e un futuro per il Mezzogiorno che è una terra bellissima ma in questo momento con tanti, troppi problemi. Il libro di Sichenze in qualche modo rappresenta che la bellezza della nostra città e forse anche del Mezzogiorno e questo nostro abitare queste pietre così importanti, così forti, così affascinanti per gli altri in un modo poi normale. E quindi questo segreto è quello che poi interessa al mondo e che abbiamo verificato attraverso questi workshop dove colleghi, sia architetti che professori di altre università del mondo sono venuti qui volentieri per imparare perché la cosa importante è che questa città è in grado di insegnare ad altri dei segreti che sono persi o nascosti e la rigenerazione urbana per dare indicazioni precise su come poi noi dobbiamo agire su questo tessuto così fragile e delicato della città avere elementi dei suoi segreti perché sennò il rischio è che noi sbagliamo il tipo di azione nel cambiamento e nella trasformazione urbana. Con quali realtà vi siete confrontati con i workshop? Allora, noi siamo andati da nord a sud appunto con due luoghi di crisi come la Grecia e l'Irlanda due mondi completamente diversi come il Brasile e la Cina dei luoghi dove in qualche modo in questo momento sono riferimento per quello che riguarda l'economia la tecnologia come la Germania e nello stesso tempo anche con luoghi dell'Italia come Roma, Palermo, Milano quindi in qualche modo questo confronto è ad amplissimo raggio nei prossimi mesi continueremo sia con questi luoghi con cui abbiamo cominciato e ne apriremo altri proprio per creare una connessione davvero internazionale di incontro e di riflessione su quello che può essere il destino delle città in generale che è un problema molto ampio che sta cominciando a discutersi in ambito internazionale non solo qui. Perché una casa editrice del territorio decida di pubblicare un libro che parla di Matera è già abbastanza ovvio ma magari vale la pena ribadirlo? Allora sì, noi sono più di vent'anni che lavoriamo sul territorio con produzioni che vanno dalle guide ai saggi ci occupiamo del territorio di Matera ma non solo del territorio di Matera quindi quando mi è stato proposto da Sicchense la pubblicazione di questo volume era scontata il mio sì anche perché è un libro molto particolare non è una guida, non è un saggio ma è secondo me un contributo che lui dà alla nostra città e dalle pagine viene fuori che lui è veramente innamorato di questa città e dimostra una sensibilità forse per il suo mestiere, per il suo modo di essere che non avevamo ancora affrontato nelle nostre pubblicazioni e lui entra proprio in punta di piedi nelle case dei Materani e ci fa scoprire tanti personaggi più o meno famosi ma anzi forse sono di più quelli meno conosciuti persone normali, persone che si incontrano tutti i giorni e che nascondono un modo di vivere interessante, bello per ragione questo volume può rientrare tranquillamente nel nostro catalogo già molto nutrito perché questa volta diamo spazio all'abitante di Matera e alle case degli abitanti di Matera quindi non c'è soltanto la storia che ormai conosciamo bene tutti ma focalizziamo l'attenzione su chi abita a Matera